Sono 350.000 i richiedenti asilo in Italia nel 2022, di cui il 41% provenienti dall'Ucraina. Questi alcuni dei numeri emersi in occasione della giornata mondiale del rifugiato, celebrata ogni 20 giugno. A fare il punto sulla situazione in Sardegna, il direttore della Caritas diocesana, Don Marco Lai. Per quanto riguarda la Sardegna, in questo momento abbiamo circa 50.000 immigrati, non solo richiedenti asilo, ma persone che sono arrivate da altri stati, da altri continenti. In un contesto dove, tra l'altro, la crisi demografica morde sempre di più, la richiesta e l'offerta al lavoro è sempre più elevata. Ecco, tutto questo quasi a dirci che sicuramente non abbiamo un'invasione, di sicuro in questo momento c'è proprio quasi una necessità. Come Caritas diocesana di Cagliari noi accogliamo circa 160 ospiti, di provenienza ucraina per circa una novantina, nei CAS. Accogliamo poi anche una quarantina di afghani. Abbiamo poi altre nazionalità che provengono dall'Estremo Oriente, dal Medio Oriente e dall'Africa. Mentre con il SAI, col Comune di Quartu, il centro di accoglienza SAI San Fulgenzi, ospitiamo 28 persone. A queste 160 e passa ospiti dobbiamo aggiungere altri 230 profughi provenienti dall'Ucraina, che sono in tutto e per tutto a carico della chiesa locale, della CEI e delle famiglie che hanno aperto le proprie porte per accoglierli senza alcuna ricompensa. Di fondamentale importanza i progetti che la chiesa, la Caritas, i comuni della regione Sardegna portano avanti e che hanno permesso con il tempo ai giovani figli della prima immigrazione una completa inclusione e realizzazione. Alla giornata mondiale del rifugiato ha aderito anche il Comune di Cagliari, che per l'occasione ha deciso di illuminare di blu il torrino del bastione di San Remy, per ribadire l'importanza di proteggere e sostenere le persone costrette a fuggire dalle loro terre d'origine.